La serie di video che vado a iniziare oggi fa parte di un processo abbastanza lungo e complesso e soprattutto inizierò a introdurre dei concetti un po' difficili da digerire se vogliamo a causa appunto di particolari ambienti culturali in cui siamo cresciuti negli ultimi 2000 anni e quindi cercherò di introdurre le cose piano piano, pezzo per pezzo anche se inizialmente non si capirà dove voglio andare a parare e assicuro che fra un po' di mesi e comunque puntata dopo puntata sarà leggermente più chiaro richiamiamo fattore T e vabbè capirete prima o poi penso prima che poi di cosa sto parlando Allora in questa prima parte che sarà un po' un'introduzione della prima puntata di fattore T vorrei discutere un po' di una cosa che diamo per scontata e che effettivamente però non ci si riflette mai su abbastanza quindi vuole essere più una domanda e una riflessione la butto lì, mi piacerebbe partecipare rispondendo video o rispondendo testuale o come preferite per mettere su una discussione da poter poi portare avanti nei prossimi video sostanzialmente il primo sassolino che lancio è questo se fate caso nel Parlamento italiano ci sono a questo momento 630 deputati senza contare vari deputati a vita e varie altre cariche fateci caso, tutto il Parlamento vota ogni volta su misure di legge che vanno a trattare argomenti disparati possono essere argomenti di economia, possono parlare di educazione possono parlare di temi etici, possono parlare di urbanistica o di grandi opere, insomma trattano un po' tutto quello che è l'amministrazione dello Stato ora, se una votazione viene fatta da 630 persone su un argomento come possiamo essere certi che tutte quelle 630 persone abbiano le competenze tecniche e culturali per comprendere l'argomento di cui stanno andando a votare? ok, ci siamo? quindi sostanzialmente come può il Parlamento avere un voto tecnico sinceramente approfondito e nel merito se a votare sono persone che difficilmente possono comprendere quello che stanno andando a votare non perché impreparate ma perché semplicemente è impossibile per chiunque essere esperto di qualunque settore quindi cosa va a succedere? chiaramente che è quello che è sotto gli occhi di tutti le votazioni avvengono non più in merito alle proposte effettuate ma semplicemente seguendo le linee di partito in questo modo l'amministrazione dello Stato è davvero efficiente? è davvero ottimale o l'amministrazione dello Stato diventa semplicemente due curve di tifoseria che si scannano sui provvedimenti? se non c'è la competenza come si può permettere che una cosa comune la cosa pubblica che deve essere poi lo Stato possa essere amministrata nel migliore dei modi? questo è il primo spunto pensateci e fatemi sapere ciao